Civitella Borghizinerante è una manifestazione enogastronomica che si svolge nel centro storico del paese vengono coinvolti i punti principali del centro storico a partire da Piazza Roma, quella dove si trova la chiesa principale il Belvedere Maiella, il Belvedere che si trova proprio nel centro storico di Civitella e la parte del Colle da cui si può mirare un panorama a dir poco spettacolare si tratterà di rivivere un pochettino tutti i piatti tradizionali della nostra cultura quindi pasta e fagioli, pallotte caciove, arrosticini, piatti che diciamo hanno contraddistinto un pochettino la tradizione contadina la serata inizierà con l'arrivo delle auto d'epoca che arriveranno a Civitella intorno alle 19-19.30 e da lì inizieremo con un mega aperitivo da cui partirà poi tutta la serata tutto il percorso della serata verrà accompagnato da diversi gruppi musicali che si intercambieranno durante il percorso gastronomico il gruppo di punta saranno le terre del sud che suonano proprio balli tradizionali, balli tipici ci sarà un gruppo di liscio e balli di gruppo, un trio acustico molto interessante che fa cover di musica italiana e straniera e un gruppo tutto civitellese chiamato le vittime del progresso che abbiamo voluto diciamo inglobare e debutteranno proprio durante la serata dopo la mezzanotte ci sarà un DJ set che accompagnerà la chiusura della serata ed è dedicato principalmente ai nostri giovani, ai ragazzi che faranno la classica notte bianca Don Reazio Danilo, sindaco di Civitella Messerai Mondo Civitella Borgo Itinerante, 12 luglio 2014 dalle ore 19.30 con una serata attraverso un percorso che vi guiderà all'interno del paese tra stand enogastronomici, musica dal vivo e antichi mestieri non perdete quindi questa manifestazione patrocinata e organizzata dal comune di Civitella Messerai Mondo con le associazioni paesane tra cui la Proloco, l'associazione ASD Civitellese, le Amici della Musica, il Circolo Arci la Zagaie, Maiella Fishing altre manifestazioni ci saranno questa estate quindi la Sagra della Pizzonta prevista per l'8 agosto un appuntamento al quale non si deve mancare perché siamo alla 22esima edizione quindi 22 anni è un appuntamento importante poi il 15 agosto Civitellese una manifestazione che riguarderà il cinema e quindi un festival del cinema e a fine agosto avremo una manifestazione di incontro tra i civitellesi e i civitellesi all'estero quindi con Civitella Incontro Online in più ci sarà anche una serata dedicata ai 10 anni dell'ASD Civitellese quindi associazione calcistica e quindi ovviamente il 12 luglio vi aspettiamo tutti quanti a Civitella Messerai Mondo per vivere insieme Civitella Borgo Itinerante dalle 19.30 in poi fino a tardanotte